Prima non è che vivessimo in una prigione sovietica, vivevamo nello stesso occidente, però i capitali non si potevano spostare se non si spostavano dei beni. Guarda un po'. E nessuno poteva dire a uno Stato, tu non hai soldi, perché lo Stato i soldi se li stampava. E non era ancora stato inventato, no, era già stato inventato, messo a stampa, non era ancora stato applicato tutta la serqua mostruosa di concetti molto potenti del neoliberismo, che si fondano sostanzialmente sulla sioma della irrazionalità degli esseri umani e della loro esistenza sociale, irrazionalità, che non è correggibile. Per cui non è nemmeno vero quel che dicevano i marginalisti, cioè esiste il mercato perfetto, no, il mercato è sempre imperfetto e non può essere che imperfetto. Gli uomini vivono immersi in un sistema di relazioni di cui non sanno nulla. E il successo e l'insuccesso non si fonda sopra ideologie, sopra l'applicazione di teoremi. Non lo sappiamo. Oh, questo è Hayek. Per cui la più grande distruzione della soggettività moderna l'hanno fatta, inventata dai liberali, l'hanno fatta i neoliberali. Bene, nessuno aveva detto viviamo a caso. Ogni tanto si formano delle buone pratiche, ma non crediate, è un puro caso. Nessuno ha detto questo. Questo è antidemocratico radicalmente. radicalmente. Cioè l'idea che l'opacità è ciò dentro cui tu sei in me. Questo è pensiero negativo sul serio. Sei immerso ineluttabilmente dentro il non sapere, non il logos, ma l'ignoranza è il motore della società e della storia. SIC. Da cui un sistema potentissimo, perché tutto ciò è pura potenza, è assolutamente instabile. Naturalmente le povere sinistre che erano ancora lì, col piano, il progetto, i valori, distrutte da questa roba, che hanno in sé stesse abbracciate pensando di poterle ingentilire, dominare, urbanizzare. E adesso ridotte a interrogarsi sugli aspetti marginali dell'esistenza collettiva, individuali, privati, che vanno difesi finché si vuole, ma non ti salvano, non salvano una società. Una società non diventa giusta per quelli, diventa giusta quando torna a essere fondata, come dice l'antico 1 della Costituzione, sul lavoro, e non sull'algoritmo, e non sul mercato, e non sull'ignoranza. Dice, non lo sa più nessuno. Beh, qualcuno di noi lo scrive, molti lo sperimentano dolorosamente sulla propria esistenza, se questo qualcuno che scrive, non io, riuscisse a parlare a quelli, e soprattutto se in mezzo ci fosse un partito, ma non c'è. E non voglio che qualcuno mi dica che c'è, perché divento anche cattivo. Non c'è, non c'è, non c'è. Sì, però oggi non c'è, domani chissà. L'evento. L'emergenza. L'emergenza positiva. Le raignis. Però, ripeto, non stiamo dicendo assaltiamo la fortezza del potere, perché il potere non è una fortezza. Sappiamo che poi se no si ripete tutto uguale, lo sappiamo. No, ma non è una fortezza oggi. E comunque sarebbe un ripetere già fatto. Non so se ho risposto alle vostre domande. C'è la questione un po' della geopolitica e della democrazia. Ah, lì, lì c'è poco da dire. No, lì c'è poco da dire, perché... Seguiamo appresso gli Stati Uniti, punto e basta. No, cerchiamo... Allora, io vorrei dire questo, però, attenzione, tutti quelli che dicono Europa è Europa, e io non sono fra quelli, adesso vi dico anche perché, intanto perché non ci credo, perché, ripeto, credo nei cicli storici, ma se anche per un qualche miracolo, dopo Napoleone e Hitler, qualcuno riuscisse a fare una roba un po' meno sanguinosa, ma riunire l'Europa, anche solo in una federazione. Una federazione come sono una federazione degli Stati Uniti, di Stati non sovrani, perché se una federazione è di Stati sovrani, non è una federazione, ma è una confederazione. Bene. L'obiettivo qual è? Giocare al gioco delle grandi potenze? Per cui avremo un pentagone europeo, le portere europee, le bombe H europee, la politica di potenza europea? Pensate che ce lo lascerebbero fare? Cioè, arriva un altro giocatore al tavolo del poker e dice ci sono anch'io? Su. Non pensate che si metterebbero d'accordo i russi e gli americani per sterminarci prima? Nasce una superpotenza nuova fra gli applausi delle vecchie? Allora, diciamo così. Dentro una partita geopolitica ci si è sempre per necessità, come siamo dentro la forza di gravità. Il punto è, ci siamo come soggetti sovrani attivi o no? Se ci siamo come soggetti sovrani attivi, allora vuol dire che abbiamo una potenza da proiettare? Tant'è vero che quelli che questa cosa la capivano e tuttavia credevano nell'Europa, per di più nella UE, figuriamoci, dicevano Europa potenza civile. Cioè, l'Europa è una potenza solo se le potenze non fanno la guerra e solo se le potenze non fanno nemmeno proiezione di potenza. O, che è come dire che io sono un campione mondiale dei pesi massimi se non facciamo a pugni. Che, insomma, ecco. la geopolitica non è democratica, è responsabile o irresponsabile. La democrazia? Sì. La democrazia è fatta interno. La geopolitica? Però, Viti Branto, Aldo Moro hanno fatto una politica, per Tiro Grazia hanno fatto una politica, con una qualche autonomia. In effetti quelli l'hanno fatta troppo, l'hanno pagata. Ecco. Ma l'altro giorno mi dicono che per TV, quando c'è stato, io non le guardo mai per motivi religiosi, c'era un talk show, non so, in cui c'era anche Prodi, e che a un certo punto ha detto, beh, ma è evidente che se questa qui non si piegava al volontà americana e europea, il suo governo cadeva in un mese. ma può essere anche, non un atto, un momento rivoluzionario, può essere anche che a un certo punto i tedeschi capiscono che quel gioco che hanno fatto imponendoci l'euro, adesso si rovescia contro di loro e non è più da giocare. Saranno i tedeschi, ma i tedeschi li vedo molto disorientati, non vorrei dire. No, anche io, l'attuale cancelliere non si capisce che accidenti stia facendo, effettivamente. Bisogna dire che, ripeto, esistono cicli storici, cioè noi possiamo assicurarci una dignitosa vecchiaia, non di più. con i tempi lupi siamo tutti morti, come diceva Keyes. Non è malto questo, ad oggi la prospettiva non è questa. Era una metafora, era una metafora, cioè gli stati europei possono garantirsi una decorosa vecchiaia. L'idea è che vadano ancora in giro per il mondo come sovrani. non è una cosa realistica, però con un interno che sussisteva. Ecco, oggi non ci sono le condizioni. Non ci sono le condizioni. Non ci sono le condizioni. Sono state demolite, sono demolite, lui almeno così, per me ci permette di capire, sono state demolite già dal 45. Sì, nel 45 però in realtà c'erano tante cose. Nel 45 sono state demolite alcune, cioè quelle strategico-militari. Occhio, perché a metà degli anni 70 c'era l'idea che non si diceva. Sì, no, non c'era. A metà degli anni 70 ancora c'era questa sensazione per cui questa democrazia pretende troppo. Stanno in Europa e anche in altre parti del mondo si sono messi in testa di fare delle cose che sono ipersociali e chissà dove vogliono andare ma non solo in Italia c'era Olof Palme, lo sappiamo. E c'è stata una reazione che è stata organizzata. Naturalmente la rottura di Bretto Musica è stata una scelta geopolitica americana anti-europea innanzitutto ha creato le premesse per è stata una scelta politica appunto è geopolitica. È partita una grande operazione ideologica e parliamoci chiaro in Italia noi abbiamo avuto un colpo di Stato camuffato è stata fatta la più grande operazione coperta dell'Europa occidentale che si è chiusa il 9 maggio del 78 dico il falso non credo abbiamo se uno guarda che fine hanno fatto Olof Palme e Aldo Mor allora detto in un altro modo non è che perdi una guerra mondiale gratis ecco però ora è come se fossimo proprio qui a dire vabbè non solo è finita tutta a zero il grado zero ma ci piace enormemente noi riusciamo a non pensare ma questo no non noi le maschere di pseudo politica che ci sono in giro la chiacchiera la chiacchiera il nodo è quello che abbiamo detto è la ricostituzione delle condizioni interne di una relativa realistica autonomia politica sembriamo tre e questo è un nodo grande comunque per carità non c'è spazio diciamo così siccome c'è spazio per una o due domande se volete fino alle sette e mezzo sette e mezzo ventrentacinque possiamo arrivare c'è qualcuno che vuole intervenire giustamente però venga qui venga qui perché almeno semmai è solo una suggestione come si dice nostalgica anche alla luce di quello che diceva il professore io ricordo per averlo visto proprio qualche giorno fa un intervento di Bettino Craxi 30 anni fa alla Camera dei Deputati in cui paragonava l'OLP a a Mazzini la politica è potere di soggetti collettivi quasi semplice che ci sia un soggetto singolo che fa politica da solo non usa più ecco è Napoleone ma insomma non usa più soggetto collettivi noi non ne abbiamo questo è il punto vero poi oggi l'immagine del mercenario mi è venuta in mente perché io avevo parlato dei giovani bravi o ricchi o ricchi e bravi o poveri e bravissimi che fanno lo sforzo di andare nelle università dove si impara a essere parte del sistema del comando mondiale però attenzione questo ti porta a parte che io come dicevo al mio al mio dentista cattolicissimo che aveva mandato il figlio alla London School of Economics e ho detto guardi che peccato mortale però ti portano via l'anima va bene diventi diventi uno che comanda in nome del neoliberismo bene però vai in giro per il mondo e sarai sempre l'uomo di qualcuno di quei qualcuno di quelli che hanno più soldi della metà degli stati mondiali ecco è qui che vai a sbattere c'è una tale illogicità una tale irrazionalità di questa situazione sì è vero 30-40 anni fa nessuno avrebbe pensato che cosa è successo elettronica e deregulation crollo deliberato del comunque mossa politica americana 71 produce la fine di un ordine era un ordine quello quello di Bretton Good era un ordine non è che comandava gli americani non è che comandasse l'URSS comandava gli americani poi quando hanno avuto problemi perché facevano inflazione per la guerra in Vietnam hanno detto bene mi salvo io e voi andate a morire ammazzati 10 anni ma meno 7-8 anni di crisi di interregno gli anni 70 ma sì praticamente con l'assassinio di Moro si chiude un'epoca l'anno dopo viene eletta a traccia già fatto poi tutti gli anni 80 edonismo reganiano che vuol dire capitalismo che stressa quel po' che c'era da stressare del mondo comunista che crolla e poi parte gli anni 90 parte tutto bene via deregulation new economy speculazione vincente si passa la vera crisi non sono non è la crisi della seconda metà dell'anno 2000 né la crisi delle due torri la vera crisi è 2007-2008 ma anche lì loro la superano perché loro stampano una quantità di miliardi di dollari bestiale e la danno ai loro la fanno il welfare per le banche il welfare per la chrysler va bene il keynesismo per i miliardari va bene noi parliamo la botta con più austerità genialmente con più austerità ed eccoci qua e non cresciamo più non abbiamo più niente da distribuire abbiamo solo da erodere le posizioni di quelli che si sono fatti le posizioni perché sono nati all'epoca del boom demografico cioè mia le signore non hanno età mia si può erodere lì ma non c'è niente da distribuire e un giovane di oggi non avrà mai la pensione mai procedere senza questo può essere un disegno ma è un disegno cieco perché si fonda sopra l'idea della infinita sopportazione dei cittadini infinita sopportazione perdita totale da parte dei cittadini di ciò che è quel minimo di ricerca di prevedibilità della propria esistenza che fa parte dell'animo umano invece no non c'è non c'è prevedibilità o se c'è eh ti do 1500 euro al mese fateli bastare per tutta la tua sporca vita hai studiato ti sei preso il dottorato a 40 anni hai vinto un concorso per diventare professore di scuola dove verrai maltrattato dagli studenti e dai loro genitori fatti li bastare perché non ne avrai mai di più basta insomma diciamo così noi abbiamo conosciuto un mondo diverso sì tu e io lui forse anche adesso i patti sono questi ma guarda che sono le sanno benissimo non è che non gli stiamo rivelando come nascono i bambini lo sanno già ecco non è che un giorno si stancheranno faranno comunque in questo libro c'è persino un'apertura sui beni comuni e per questo significa che è arrivata la frutta perché sennò mai e poi ma mai e poi ma e invece no perché si vede che veramente la disperazione è tale che il punto è questo non può essere un'unica logica quella che guida una società ma figura se è un'unica logica è totalitarismo ma figura il povero Rodotà faceva una cosa seria alcuni beni possono essere comuni e tra l'altro aveva anche regolata la cosa bene la buddista e il giuridico il punto è questo se c'è un'unica logica che guida la società è totalitarismo è certo però una società se è plurale sono totalitari tutti gli altri sono tutti i putiniani tutti i totalitari sono sono quello che io qui lo trovo tremendo guarda questa accusa è andato del putiniano a Lucio Caraccio eh dunque vabbè e poi la discriminazione in mano umanitaria io guardavo il detto è certo è il mio assoluto è il mio amore è il criminale è certo ma poi lo fanno così vediamo non ci si ferma non ci si ferma davanti al ridicolo è putiniano il papa sì sì è vero il ridicolo più totale è stato varcato tranquillamente no poi poi chiunque dicesse ma forse c'è un motivo vabbè ma comunque vediamo cerchiamo di capire capiamo è anche il segno della decadenza intellettuale sì è la decadenza dei sistemi argomentari zero zero va bene va bene grazie 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 grazie